ecco qua il urbinecchio finalmente siamo arrivati all'urbinecchio unedì l'ha detto dove ho paparonello qua? a dove? ecco vedi vedi uno comincio a cacciare chissà di qua come la cacciare chissà cacciare chissà mi piace questa famigliella l'urbinecchio attendo l'urbinecchio l'urbinecchio adesso è l'urbinecchio vedi che cacciare l'urbinecchio ma è chiuso ancora qui? è buono e va bene vedi l'urbinecchio dove è l'urbinecchio che c'è i fratelli e i cugini anche i cugini c'è l'urbinecchio e vedono poco Numero cacci bubbles a dove? qui c'èindruck che l'urbinecchio un problema c'è assistenza non c'è a qui l'urbinecchio siamo arrivati a Roma che cosa View ér? tu cugino su ve su il lavaggio provate tu e ve attenta e ve la e ve stacca il luogo e ve e ve non è impossibile se ne è impossibile se invece ve meno poco e ve posso chiudere la baracca se ne consumano batterie non è ma pare che ne sei donato tutto il piede e che stai passando mamma che rovina se fongi stanno mamma passa e chiudo per il momento dall'asila e non lavoraccio, mannaggia